Da Yerevan, un altro monastero imperdibile, quello di Korvirap, strade sempre dissestate, autista che corre come un pazzo, in compenso ho una bella giornata di sole davanti. Arrivato al monastero, questa è la chiesa principale del XVII secolo. Il monastero Korvirap risale al 500 d.C. Anche qui predomina il rosso della pietra di Tufo. Il monastero di Korvirap è il più noto monumento storico architettonico della regione di Ararat. L'importanza del monastero è legata al fondatore del cristianesimo in Armenia, Gregorio l'Illuminatore. Grazie a tutti, grazie a tutti. È stato impegnativo scendere in questo profondo pozzo di 7 metri, la scala molto ripida. Si dice che qui il San Gregorio l'Illuminatore fosse stato tenuto prigioniero 12 o 13 anni, ma sarebbe stato impossibile vivere in queste condizioni. Sicuramente è stato fatto prigioniero, ma non in questo pozzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Raggiù in fondo abbiamo il monte Ararat, la montagna biblica. Purtroppo non si può vedere oggi coperto dalle nuvole.